Quella che vedete nelle immagini è l'area dove sorgerà il parco urbano di Piazza d'Armi, attigua gli impianti sportivi. Buone notizie per il parco. Fermo al palo da tempo, arriva un collegio consultivo tecnico per sbloccare il progetto da 22 milioni di euro atteso da oltre dieci anni. Il collegio si occuperà di esaminare tutta la documentazione. La giunta comunale ha approvato una delibera che dà mandato al segretario generale di procedere alla costituzione di questo organismo. L'obiettivo è sbloccare l'impasse di questo progetto importante che cambierà il volto dell'area. 22 milioni di euro in totale, 4 milioni dal MEF, 15 dal Piano Nazionale per le Città, del Ministero per le Infrastrutture e Trasporti e infine 3 milioni, frutto di donazioni arrivate dopo il sisma dall'Australia. La vicenda è lunga e complessa. Si ricorderà come ci fu un concorso di progettazione che si concluse col progetto definitivo. Poi una procedura di appalto che prevedeva che anche l'impresa giudicataria dei lavori redigesse il progetto esecutivo rielaborato varie volte. Sulla base del decreto semplificazioni, il Comune ha deciso di procedere alla nomina di questo collegio che dovrà essere formato da tre o cinque membri. La situazione della realizzazione del parco urbano a Piazza Darmi si rascinava da fin troppo tempo. La vicenda è nota, c'era stato un contenzioso con la ditta per un eccesso di ribasso, poi la ditta è andata in concordato preventivo e la situazione si è arenata. Per questo motivo, come la norma consente, abbiamo deciso di istituire un comitato tecnico che farà tutta la cronistoria della vicenda e darà un indirizzo univoco rispetto alle modalità per sbloccare un cantiere che è atteso da moltissimi anni, che è atteso da moltissima gente a partire dai donatori australiani. Anche in questo caso ci siamo trovati di fronte a un procedimento incagliato come gran parte della ricostruzione pubblica che abbiamo ereditato cinque anni fa e su cui stiamo cercando faticosamente di trovare il bandolo della matassa per dare finalmente un'immagine di efficienza alla macchina comunale. Secondo il sindaco Biondi e l'assessore Raffaele Daniele, il comune sta dando risposte concrete nel quadro di una ricostruzione pubblica paralizzata a loro giudizio fino a cinque anni fa.